Sei indeciso su quale flash comprare? Scattare con il flash da sempre qualche grattacapo e anche solo scegliere il modello giusto può farti perdere ore in ricerche online. Oggi ti mostro come una delle caratteristiche che più influenza il prezzo di un flash possa essere inutile o addirittura controproducente. Infatti l'HSS o high speed sync pur essendo comodo può fare un bel danno alla schiena, al portafoglio, ma anche alle foto. Ciao sono Mariano di videozappo.com. Alla fine di questo video saprai se in base alle tue esigenze dovrai acquistare un flash che supporta high speed sync oppure risparmiare peso e denaro e investire in altri accessori. Vedrai anche come un flash da mezzo chilo di 30 anni fa possa fare esattamente la stessa luce di uno che pesa il doppio, ha una potenza tripla ed è nuovo di zecca. Prima di tutto che cos'è questo high speed sync spesso abbreviato in HSS? Si tratta di un insieme di tecnologie che presuppone un flash che possa comunicare con la macchina e questo gli permette di scattare a tempi più rapidi del tempo di sincronizzazione o del tempo di Synchro X. Che cosa è il Synchro X? Tu sai che l'otturatore della tua macchina fotografica è costituito da due tendine, quando inizi l'esposizione un istante prima si chiude la prima tendina e il sensore è completamente al buio, inizia l'esposizione quindi la tendina inizia a scendere, passato il tempo di esposizione parte anche la seconda che va a ricoprire il fotogramma. Ti rendi conto che se il tempo è sufficientemente lungo avrai almeno un istante in cui il sensore è completamente aperto, se il tempo invece è più breve le due tendine cammineranno insieme, perché se il tempo di esposizione è molto breve la prima tendina non sarà ancora arrivata alla fine del sensore quando la seconda dovrà già partire perché il tempo di esposizione è passato. Ecco, il tempo di sincronizzazione è il tempo più veloce che puoi usare e che ancora ti garantisce un istante in cui il sensore è completamente scoperto. In quell'istante parte il flash e di conseguenza va a coinvolgere tutto il sensore. L'iSpeed Sync che cosa fa? Ti permette di utilizzare il flash anche quando le due tendine stanno camminando insieme davanti al sensore. Per fare questo fa partire una serie di lampi in rapidissima sequenza a coprire tutto il tragitto delle tendine. L'utilizzo dell'iSpeed Sync ha senso esclusivamente quando vuoi scattare con il flash c'è tanta luce ambiente e non riesci con la coppia tempo diaframma che ti permette di impostare il tempo di sincronizzazione di ottenere il risultato che vorresti. Se è arrivato a un centosessantesimo, un duecentesimo, quello che è il sincro flash della tua macchina e ti trovi a dover scattare per esempio a diaframma f11, tu vorresti scattare a f28, non ci riesci perché non puoi salire sopra un centosessantesimo. Il iSpeed Sync non ha assolutamente senso in altre circostanze. Serve esclusivamente a questo. Cosa comporta usare iSpeed Sync? Come probabilmente saprai, quando utilizzi il flash puoi utilizzare diaframma, ISO e potenza del flash per regolare la quantità di luce che dal flash raggiunge il sensore e il tempo di esposizione puoi utilizzarlo per gestire la quantità di luce ambiente che invece va a comporre l'esposizione. T'ho spiegato tutto nel dettaglio in un video, te lo linko nella descrizione e nella card qui sopra alla mia testa. Non mi dilungo oltre. Cosa succede nell'istante in cui ingaggi l'iSpeed Sync, dunque che superi il tempo di sincronizzazione della macchina e il flash si commuta in questa speciale modalità, succede che il tempo di esposizione inizia ad influire in maniera equivalente sulla quantità di luce flash e sulla quantità di luce ambiente. Dunque, usando l'iSpeed Sync non ti cambierà più il rapporto tra flash e ambiente, come invece succedeva prima, fino a quando non sei arrivato al tempo di synchro X. Magari fosse soltanto così, nell'istante in cui vai ad attivare la funzione iSpeed Sync, per esempio passi da un centosessantesimo, che è il tempo di synchro X della macchina che userò io, la A7C, passi a un duecentesimo di secondo, quindi un terzo di stop per quello che riguarda il tempo di esposizione, ti troverai per il solo fatto di aver attivato la funzione con un callo di potenza del flash che va da uno stop a molto molto di più. Nella mia esperienza non ho mai visto un flash, per quanto buono, che non perda almeno uno stop abbondante, uno stop e un terzo, uno stop e due terzi, è già un ottimo flash. Mi sembra dunque chiaro per quale motivo l'iSpeed Sync è dannoso. Non ti dà nessun vantaggio nel rapporto tra flash e ambiente, a parità ovviamente di altre condizioni, e crea questa diminuzione sensibile di potenza. Oltretutto lo stesso risultato potresti ottenerlo banalmente chiudendo il diaframma oppure abbassandogli liso. Tu mi dirai, il diaframma non lo voglio chiudere perché a me piace avere, per esempio, lo sfondo sfocato e dunque voglio aprirlo al massimo per quelle che sono le caratteristiche del mio obiettivo. Perfetto, puoi sempre abbassare gli iso. E' peccato che sono arrivato con gli iso al limite, sono a 100 iso, anzi ho usato anche la possibilità della gamma iso estesa, dunque sono arrivato a 50 o a 64 iso che mi danno anche una perdita di gamma dinamica. Ma la soluzione è estremamente semplice. Prendi un filtro ND. T'ho già parlato svariate volte di questo genere di filtri sul canale, ti linko i due video principali in cui te ne ho parlato nella descrizione e nella card qui sopra. Meglio sono gli ND fissi come questo che ho in mano, ma altrettanto bene vanno dei filtri ND variabili. Se l'ND è troppo intenso, puoi sempre compensare salendo un pochino con gli iso, non succede assolutamente niente. Le moderne macchine, se sali a 400 o 800 iso, cambia davvero molto molto poco. Il vantaggio di usare i filtri ND al posto dell'high speed sync è notevolissimo, perché un flash come questo qua, che è il Q3 di Nikon, che ti ho già fatto vedere più volte sul canale anche nel video che ti ho citato prima, fa praticamente la stessa quantità di luce in high speed sync di questo SB24 di Nikon, che era un flash sicuramente di fascia alta, ma di 30, forse 35 anni fa, che oggi trovi nel mercato dell'usato per pochi euro, ma non hai nessun bisogno di comprare un flash così vecchio. Ci sono tanti modelli estremamente economici, manuali, che non hanno questa caratteristica e che comunque funzionano piuttosto bene. Vi faccio vedere nella pratica. Ho allestito questo piccolo set dove c'è la mia A7C che sincronizza un centosessantesimo. Sto registrando anche il display per mostrarti quello che faccio. Qui ho creato questo set dove ci sono due cartoncini grigi al 18%, dunque sono spettralmente neutri e possiamo utilizzarli a prescindere dal colore della luce che ci va sopra. E la luce che ho creato è questa qui. Abbiamo questa luce continua che ho leggermente diffuso, giusto per averla un pochino più uniforme. L'unica cosa è che non avevo nulla di così potente da poter simulare il sole diffondendola per bene. Ma a questa distanza, vedi come l'esposimetro spot segni un cento venticinquesimo f11 a cento viso, che è presso a poco la luce che fa il sole quando è relativamente alto sull'orizzonte. Non siamo in spiaggia a mezzogiorno, ma è una bella quantità di luce. Da quest'altro lato abbiamo i nostri due flash, c'è il Q3 dove ho legato l'SB24 alla bene e meglio. Questi sono diffusi dall'ombrello, e l'ombrello si trova a una certa distanza dal cartoncino che c'è qui dietro e questo per simulare una condizione tutto sommato reale. Cioè questa distanza è una distanza ragionevole per fare un ritratto al sole con questo genere di flash. Questo cavo fa partire l'SB24, il trigger fa partire il Q3. Posso dunque farli partire indipendentemente. E qua ci sono i filtri ND che utilizzerò per dimostrarti quanto siano più efficaci dell'iSpeed Sync. Abbiamo un ND8 e un ND64 di KeyNF Concept. Sono ottimi i filtri, sono magnetici, dunque si possono poggiare in un istante all'obiettivo, quindi ci metti veramente un attimo a sostituirli. E sono anche di buona qualità, molto sottili, leggeri, si possono usare tranquillamente anche con i grandangolari. Ora faccio tutte le foto che servono. Su questo foglietto segnerò i dati che non fanno parte dei dati EXIF, per cui dovrò ricavarmeli, e poi ti mostro il risultato al computer. Ecco che cosa è venuto fuori. Prima di tutto guarda questa comparazione. Abbiamo sempre il Q3 a tutta potenza e senza alcun filtro. Un centosessantesimo f11, un duecentesimo f11. Vuol dire che qua ero in modalità di sincronizzazione normale e qui c'era l'iSpeed Sync. La differenza sulla luce ambiente è evidentemente minima. Ti ricordo che a sinistra è soltanto luce ambiente. Questo qui in mezzo è il cartoncino sfocato che divideva le due cose per impedire che il flash andasse da una parte e la luce ambiente dall'altra. E questa sulla destra, quindi questa e questa qua, è la luce flash. La differenza sul flash è gigantesca, tant'è che con il Q3 dobbiamo arrivare a un ottavo della potenza. Più o meno vedi che ci siamo. Poi il Q3 purtroppo ha questo difetto per cui non è perfettamente uniforme dalla cima fino in fondo. Ora te lo faccio vedere meglio. Ma ecco qui, vedi, qui siamo a un duecentesimo, qui siamo a un centosessantesimo. Dunque qui sincronizzazione normale, ma vedi che qua siamo a un ottavo di potenza e qui siamo a piena potenza. Dunque il Q3 perde una quantità di luce spaventosa nell'istante in cui ingaggi l'iSpeed Sync. Ti faccio vedere anche un'altra cosa. Abbiamo qui a sinistra il Q3 a piena potenza con l'ND8 e vedi che abbiamo scattato a un centosessantesimo di secondo f2.800 ISO. Da quest'altra parte abbiamo sempre il Q3 sempre a piena potenza, ma abbiamo scattato sempre a 2.800 ISO con un millesecentesimo di secondo. Dunque in High Speed Sync. E guarda l'enorme differenza. La luce ambiente, come al solito, è praticamente identica, ma guarda la luce flash. Qui siamo riusciti, con il nostro Q3, ad andare ampiamente sopra alla luce ambiente. Quindi possiamo rendere il fondo molto scuro, perché possiamo tagliar via luce ambiente. Con l'iSpeed Sync non ce l'abbiamo assolutamente fatta. C'è una differenza enorme e soprattutto al contrario, ovvero l'ambiente è più della luce flash. E tutto questo semplicemente perché non abbiamo voluto utilizzare il filtro MD8 in questo caso. Infine ti faccio vedere come l'SB24 di Nikon che è questo qui ha piena potenza. Di nuovo a confronto con il Q3, compariamo le due foto, guarda un po', di nuovo luce ambiente praticamente uguale, luce flash di nuovo più o meno uguale. In realtà se vai a guardare qui c'è un sacco di bending, vedi tutte queste righine e noti anche come la parte alta del fotogramma sia più esposta di quella bassa. Al contrario qua con l'SB24 è tutto bello uniforme ma nel complesso abbiamo esattamente lo stesso rapporto tra ambiente e flash. Peccato che qui stiamo utilizzando un flash che pesa la metà perché la differenza è esattamente quella comprese le batterie e soprattutto è molto più compatto e immensamente più economico. Se stai pensando che l'iSpeed Sync sia il demonio ti sbagli è una funzione specialmente negli apparecchi di fascia alta piuttosto pratica e che può farti risparmiare tempo. Ora, è chiaro che questa perdita di potenza di uno stop più che abbondante trasforma il tuo costoso e pesante flash da 200 Ws in un economico e leggero flash a slitta. però se tutto questo non è un problema la praticità è innegabile e in realtà la praticità è l'unico reale vantaggio dell'iSpeed Sync. Ma se ti piace utilizzare il flash ho un corso completo sull'utilizzo di questo accessorio. Costa pochissimo lo trovi linkato nella descrizione qui sotto e col codice coupon YouTube risparmi un ulteriore 20% si trova nel video zappo fan club linkato in descrizione è un corso che ti guida passo passo da principiante fino ad utilizzare un accessorio come il flash a slitta anche per situazioni stile studio allestire una sala posa in casa tante situazioni tutte quante analizzate nel dettaglio e con esempi pratici nei quali ti porterò con me sul campo e ti dimostrerò passo passo come agire e come risolvere i vari problemi che ti si porranno davanti. Sei arrivato fino a qui dammi una mano col canale metti un bel like a questo video iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto condividi questo tutorial sui tuoi social e se vuoi aiutarmi attivamente puoi abbonarti al canale per ottenere contenuti esclusivi ogni settimana dal pulsantone qua in mezzo puoi accedere al video zappo fan club qui sopra ti linko il video su come utilizzare il flash di giorno molto importante quello di cui ti ho parlato all'inizio io ti ringrazio per aver guardato questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video ciao ciao